non vuole più che le parli non mi lascia chiedere scusa sto malissimo aiutatemi ha dei buoni motivi li hai mentito hai mentito a tutte in realtà già a questo proposito c'è forse qualcos'altro che dovremmo sapere no ma non che mi venga in mente così su due zoccoli è colpa mia se non mi piacciono le torte e non soltanto le torte di pinky tutte le torte so bene quanto lei adori fare torte e se le dicessi che non mi piacciono questo la distruggerebbe ti faccio notare che l'hai distrutta comunque ma hai ragione immagino che avrei dovuto mangiare le sue torte e basta ehi ci sono so come posso farmi perdonare gammie che cosa fai sei stato tu che cos'è ah sei tu pinky pie aspetta so che avrei dovuto essere onesta dall'inizio con te perché mentire alle amiche è sbagliato e perché liberarsi di tutte le torte è complicato ecco voglio dire hai idea di quante torte mi hai fatto nel corso degli anni sì so esattamente quante sono ho un catalogo torta estremamente dettagliato certo come sospettavo il punto è che pensavo ne valesse la pena per non ferire i tuoi sentimenti ma sbagliavo quindi per farmi perdonare ho fatto questa torta tutta per te cioè è per me da mangiare davanti a te il punto è che mangerò tutta questa torta per amicizia aspetta vuoi dire che quella mostruosità tonda e puzzolente è una torta? sì non posso tornare indietro e mangiare quelle che mi hai fatto in passato quindi mangerò questa torta gigante per te ora allora possiamo iniziare ferma non posso permetterlo insomma è un impasto o un tipo di cemento? ecco essere onesta non ne ho proprio idea oh non posso credere che tu voglia mangiare questa torta per me è assurdo e quello che vuoi fare è troppo complicato penso di aver finalmente capito perché hai mentito wow che cos'è? forse non era niente sono felice che ti sia piaciuta eh falso allarme torte deliziose non ci credo guarda lì e non è nemmeno il mio compleanno oh scusa tanto non c'era nulla ma di certo la tua torta alla crema era squisita vederti apprezzare così le mie torte mi rende il pane più felice di tutte queste e lo so finché poi hai fatto un sacco di cose assurde e complicate per liberarti delle mie torte perché ti rendeva felice vedermi felice anche io mi facevo in quattro per farti le torte perché mi rendeva felice vederti felice sì e se sei stata in grado di fare questo dimostra quanto tu abbia a cuore la felicità dei tuoi amici oh lascia perdere sono sciocchezze e adesso esci da quella casa e abbracciami ah ricordati solo che in futuro potrei essere sempre onesta con me d'accordo eh gliel'avrei detto io eh 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 ok che ne dici di iniziare con degli abbracci un po' meno stretti non oggi eh